Ancora Villa Vanda al centro di un braccio di ferro. Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha infatti deciso di impugnare la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha negato la confisca di Villa Vanda, la storica dimora di Licio Gelli, ex maestro della loggia massonica P2 sulle colline Aretine. La confisca era stata richiesta dall'ex questore di Arezzo Enrico Moia in base alla norma del codice antimafia sulle persone ritenute pericolose anche dopo la loro morte. La procura aveva appoggiato questa richiesta, ma il Tribunale di Arezzo qualche settimana fa si era espresso contrariamente al sequestro ed adesso il procuratore Rossi ha deciso di presentare ricorso in appello contro la confisca. Secondo Rossi infatti la villa, oggi di proprietà di una società con sede a Pistoia riconducibile all'ultima moglie del venerabile a un nipote, andrebbe confiscata perché all'epoca dell'acquisto nel 1968, contrariamente a quanto affermato dal giudice Fruganti, Licio Gelli, pur non essendo ancora formalmente coinvolto in gravi vicende giudiziarie, stava comunque preparando la sua scesa. Il giudizio di pericolosità, che secondo Rossi può essere attribuito a Gelli anche dopo la sua morte, andrebbe dunque antedatato a prima del 1968. Secondo il procuratore Rossi infine non sarebbero chiari neppure i passaggi d'acquisto della villa. Il ricorso è stato presentato in questi giorni, l'avvio del nuovo procedimento dovrebbe dunque essere imminente.